Nel 2016 all'interno dell'Istituto di Istruzione Superiore Enzo Ferrari a Roma è nata UP, l'Accademia Popolare dell'Antimafia e dei Diritti Una fattoria sociale e culturale contro la dispersione scolastica per rilanciare la periferia Una follia, in varie realtà sociali e culturali abbiamo deciso di metterci al lavoro insieme per un esperimento di antimafia unico Ci sono i laboratori di educazione non formale sulle mafie, l'antimafia e i diritti, la web radio dei ragazzi ma anche un teatro che abbiamo messo in piedi praticamente da zero e che ha già avuto la sua prima stagione, aperta a tutti Un progetto collettivo che oggi è un passo dalla sua completa realizzazione Infatti, dopo il teatro, adesso tocca alla biblioteca Che Accademia Antimafia sarebbe senza una biblioteca? Che scuola sarebbe senza la biblioteca? Che città sarebbe senza una biblioteca? Già, perché il nostro sogno è recuperare, ristrutturare e riqualificare la biblioteca della scuola per aprirla a tutti Trasformare questi 300 metri quadrati, abbandonati da più di 10 anni in un centro culturale di produzione artistica e di aggregazione per tutti Uno spazio che funzioni come centro di formazione per i più giovani dove poter leggere ma soprattutto scrivere storie nuove per dimostrare che l'alternativa al degrado e all'emarginazione esiste Questa biblioteca è già piena di libri, di idee, di progetti e potrà ospitarne ancora di più Ma abbiamo bisogno del vostro aiuto per sistemare le cose E in questi libri ci sarete anche voi E in questi libri ci sarete anche voi